buonasera a tutti ciao innanzitutto mi chiamo Gianluca Slompo e sono numero 4 della top 11 voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e forza tele ti ricordi l'esordio con la maglia del Telve sono passati tantissimi anni ormai ho dei vaghi ricordi però sono entrato al posto di Alen Carini mitico Alen Carini in Leno Telve ho giocato 15 minuti in tutti questi anni nel Telve ricordi il momento più brutto purtroppo me lo ricordo ancora è stato al torneo del Fiorenzo Rigon è stata la rottura del mio ginocchio crociato anteriore il 25 febbraio 2014 invece ti ricordi quello più bello beh momenti belli ce ne sono stati sicuramente tantissimi oltre alla passione per il calcio a tanti amici conosciuti però sicuramente il momento se devo scegliere quello più bello è stata la vittoria del campionato l'anno scorso quindi sicuramente è stato il più bello che di tutti gli altri intanto grazie ancora di tutto vi saluto forza Telve e speriamo di ritornare presto sui campi ciao a tutti